L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 15 luglio, in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Adesso andiamo a premiare lo studio legale dell'anno diritto penale consulenza e il premio va a studio bolognesi, avvocati penalisti d'impresa, anche in questo caso sono la nostra vecchia conoscenza, nel senso che anche loro erano presenti al suo summit. Sì, sì. Ok, ok, no, mi hai guardato come dire... No, 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 stavo aspettando che finissi la frase, che ho detto, aspetta, vediamo se sta dicendo la cosa che mi aspetto, effettivamente sì. Ok, ok, mi metti insomma alla prova. Va bene, va bene, accetto la sfida. Per essere, torniamo al premio, per essere il punto di riferimento da tre decenni nell'assistenza giunta fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e nella consulenza in ambito penalistico per l'approccio scientifico al diritto, la passione e l'expertise del team di avvocati in grado di sviluppare numerosi modelli di organizzazioni d'impresa per gruppi multinazionali. Studio bolognesi, avvocati penalisti d'impresa, complimenti. Sta arrivando un bel gruppo, eh? Sì, eh? Ti preannuncio che sta arrivando, anche perché poi il percorso è segnato anche dal nostro Alessio che riprende, perché poi insomma verrà tutto documentato in un reportage, eccetera, e quindi c'è questo percorso che prima parte dalla ripresa televisiva, palco, fotografie, backstage, insomma, eh. Pacchetto completo, eccoci qua. Infatti l'avvocato che guida il suo team e lo porta sul palco direttamente. Tanti, anche loro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, die, no, 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 no. Ci stiamo tutti, non vi preoccupate, noi ci spostiamo nell'angolino e lasciamo il palco a voi. Avvocato ben trovato, prenda pure il premio così... Oh, lo lasci prendere a chi preferisce. Ah sì, certo, certo. Dieci, si può fare un cinque contro cinque a palacanestro. Esatto, e dopo magari lo organizziamo, dai. Sì, 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 assolutamente. Allora, noi spostiamo... Ci sono anche le app adesso. Sì, possiamo metterci anche qua, ma magari non è il caso sulla panchina. Dai, magari ci provo io che non ho i tacchi. Tanto disposizione per le foto. Noi non dovremmo rientrare. No, infatti. Ci rientriamo, Carlos ce lo dice, con un gesto. Ok. Ah sì. Vede, ha detto la verità, perché l'avvocato diceva, quando ha detto che era un team, è un team e l'ha dimostrato. Io ho chiesto delle esperienze concrete, più di così. Complimenti. Grazie. Siamo in compagnia dell'avvocato Dario Bolognesi, fondatore dello studio Bolognesi Avvocati Penalisti di Impresa. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, questo è l'ottavo anno consecutivo in cui si aggiudica un riconoscimento a Elefonte Awards. Quindi, anzitutto complimenti. In questa edizione, in particolare, come studio legale dell'anno, diritto penale consulenza. E le chiedo quindi un commento a questo riconoscimento, a questa vittoria. Ma, evidentemente, le energie, le sinergie dei componenti del mio studio hanno, diciamo, si perpetuano. E quindi, evidentemente, diciamo, stiamo ottenendo ancora dei risultati che dipendono da loro, dal team, più che da me. Ecco, devo dire che effettivamente questi riconoscimenti danno sempre grande soddisfazione, ma sono veramente collegati, e questo premio allo studio lo sottolinea, alla organizzazione dello studio. Io ho uno studio, io sono anziano, ma i ragazzi che sono con me sono tutti avvocati, ma tutti molto giovani. E soprattutto ho, diciamo, trasmesso loro la necessità di avere sempre dei collegamenti stretti con i consulenti esterni migliori di cui si possa disporre, perché oggi la scienza è la base anche dei nostri successi in materia di diritto. Certo, ecco, e venendo proprio anche allo specifico della vostra attività, di recente avete ottenuto due importanti sentenze in materia di diritto penale ambientale. Ce le puoi illustrare? Sì, ieri eravamo a Ragusa, dove abbiamo ottenuto una soluzione di manager di una multinazionale in materia di omicidio colposo per esposizione all'asbesto. E, diciamo, questa è una materia estremamente delicata in cui, come dicevo, la scienza la fa da padrona, nel senso che qui si trattava di mesotogliomi pleurici, di malattie che sono asbesto correlate e quindi la difesa si è concentrata sul fatto che quella diagnosi non era certa. Ed evidentemente il giudice, vedremo la sentenza, ci ha dato ragione. Più specificamente in materia proprio ambientale, sotto il profilo dei problemi degli ecoreati, dei nuovi ecoreati, una cosa interessante, si è verificata sempre al sud per la difesa di una raffineria siciliana che è, diciamo, gestita da una società italiana e da una società straniera in contemporanea, per la quale era accaduto che, diciamo, per una falla in un serbatoio vi era stato uno sversamento grave di sostanza idrocarburica verso il mare. E quindi è stato contestato il disastro ambientale doloso con una richiesta cautelare da parte della Procura della Repubblica, sia nei confronti delle persone fisiche per le quali è stato chiesto la misura degli arresti domiciliari, ma soprattutto anche a carico della società per la quale è stata chiesta il commissariamento. Ecco, naturalmente dovremo vedere anche quale sarà il proseguo, ma per ora abbiamo ottenuto il rigetto di queste richieste con anche una sentenza che farà un po' di giurisprudenza in materia di elementi costitutivi del disastro ambientale, perché lei sa che il disastro ambientale nell'articolo 452, 4, prevede tre possibilità. È disastro se c'è un danno irreversibile, è disastro se c'è un danno talmente grave che comporta ingenti investimenti per riportare in pristino e c'è danno ambientale se c'è un pericolo per un numero indeterminato di persone. Ecco, quindi questi aspetti sono tutti trattati da questa sentenza recente che vedremo com'è motivata e che potrà essere di interesse per tutti, direi. Ecco, Avvocato, il vostro riconoscimento menziona un particolare ambito del diritto penale che è quello legato alla consulenza, che è sempre più strategica per le imprese grazie anche all'introduzione, ormai 20 anni fa, del DLGS 231 del 2001 appunto. L'argomento del DLGS 231 è un argomento importante perché come lei diceva siamo al giro di boa dei vent'anni e sono accadute molte cose sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista operativo dal punto di vista del metodo di costruzione dei modelli organizzativi previsti nell'articolo 6 del 231. Dal punto di vista, diciamo, della legislazione, questa legge che riguardava inizialmente soltanto i reati contro la pubblica amministrazione e reati comunque dolosi, ad un certo punto è stata estesa anche ai reati colposi, omicidio colposo, lesioni gravissime, lesioni gravi per cui tutta la materia della sicurezza sul lavoro è diventata retaggio importante della 231 perché la società risponde ai sensi di questa legge nei processi anche diciamo ordinari di lesioni personali o di omicidio colposo per gli infortuni sul lavoro, quindi un grande nuovo perimetro insomma si è aperto. Poi naturalmente sono entrati i reati societari molto importanti, sono entrati i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e recentemente i reati tributari molto importante questo perché ovviamente ha una ricaduta notevolissima su qualsiasi organizzazione societaria. C'è anche un progetto nuovo, quello dell'inserimento di una serie di reati cosiddetti agroalimentari che costituisce un capitolo assolutamente nuovo. Fra l'altro il legislatore avrebbe previsto per questo aspetto la introduzione di una nuova norma nella 231 che sarebbe l'articolo 6 bis che dà indicazioni molto specifiche in ordine alle verifiche, alle analisi di rischio che la società deve fare in materia agroalimentare. Per quanto riguarda gli aspetti effettivi e cioè la costruzione del modello direi che le società sono molto migliorate nel senso che è molto più approfondita l'analisi delle aree a rischio, è molto più approfondita la ricerca di metodi di prevenzione, è molto più sentita la necessità di controlli. Invece dove vedo ancora delle carenze, infatti nella consulenza quotidiana che noi diamo ai nostri clienti abbiamo sempre problemi sotto questo profilo, è quella degli organismi di vigilanza, perché l'organismo di vigilanza è un momento centrale nella 231, se l'organismo di vigilanza ha una composizione errata o non funziona, tutto il modello cade, non è né idoneo né efficace e la giurisprudenza lo sottolinea. Quindi è importante da parte nostra come avvocati di portare i clienti ad avere un organismo di vigilanza che sia omogeneo alle richieste della legge, cioè che comprenda sia degli elementi interni che degli elementi esterni all'azienda, che abbia delle caratteristiche di autonomia, che abbia un'autonomia di spesa, che abbia un proprio regolamento, un proprio statuto e soprattutto che funzioni, nel senso che ci sia un flusso continuo di informazione tra l'organismo di vigilanza e l'amministrazione, tra le aree, tra i funzionari delle aree a rischio e lo stesso organismo di vigilanza. Su questo, diciamo, dobbiamo insistere. Bene, grazie avvocato per essere stato con noi e di nuovo complimenti. Grazie.